Ciao ragazzi, direttamente dalla Fiera del Fitness Rimini 2023, un appello a tutti voi, giorno 21 giugno alle ore 17 allo stadio De Simone di Siracusa, saremo tutti in campo per i nostri ragazzi, i ragazzi speciali. È giusto esserci e spero di trovarvi numerosi. Ciao e vi aspetto giorno 21 alle 17.